Gigi D'Alessio è uno dei cantautori italiani più famosi e amati, con una carriera di successo, che lo ha portato a vendere circa 29 milioni di dischi. Nato a Napoli nel 1967, ha collaborato con grandi nomi della canzone napoletana, come Mario Trevi, Antonio Buonomo e Pino Mauro, diventando anche il pianista ufficiale di Mario Merola. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Gigi D'Alessio è stato spesso al centro del gossip per le sue relazioni sentimentali. In particolare, quanti sono i suoi figli? E da quante donne? Il cantautore è padre di cinque figli. Dal 1986 al 2006 è stato sposato con Carmela Barbato, dalla quale ha avuto tre figli. Claudio, nato nel 1987, Ilaria, nata nel 1992, e Luca, nato nel 2003, quest'ultimo anch'esso entrato nel mondo della musica, seguendo le orme del padre. Nel dicembre del 2006, Gigi D'Alessio ha iniziato una relazione con la collega Anna Tatangelo, dalla quale è nato un bambino di nome Andrea, nel 2010. La loro storia d'amore è durata diversi anni, ma si è conclusa nel marzo del 2020. Oggi, il cantautore è legato sentimentalmente a Denise Esposito, più giovane di lui di 26 anni, dalla quale ha avuto il suo quinto figlio, Francesco.